Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto Super, super, super bene Benvenuti o bentornati Io non me lo ho Oggi sono qui per riportarvi la rubrica In cui vado a reagire High Unintentional e SMorg Sono presenti un po' sul tubo Come vecchi tempi su YouTube E uno di voi sull'ultimo video mi ha detto Appunto che esiste questo Bob Ross Che è un pittore Che a quanto pare quando fa questi video di pittura Sembra quasi che faccia ASMR Involontariamente ovviamente E quindi ho detto Cerchiamolo Sono messa a cercare di trovarlo Insomma in pochissimo tempo E ho trovato un video Che secondo me è fantastico Non vedo l'ora ovviamente di reagire Insieme a voi A questo suo ASMR Unintentional Unintentional ASMR Meglio così Per essere un po' più precisi Perché poi con il suono del pennello Sulla tela Secondo me è fantastico Infatti adesso vedremo Di valutarlo assieme Ovviamente potete dirvi nei commenti Se vi è fatto rilassare Oppure no Ma lo commentiamo Video facendo Prima di cominciare vi ricordo Come sempre di lasciare Un super mi piace Di iscrivervi al canale Se non l'aveste ancora fatto Mi raccomando È super 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 importante Raggiungiamo i 50.000 iscritti Entro la fine dell'anno Conto su tutti voi Siamo molto vicini E vi ricordo anche di seguirmi su Instagram Per non perdermi Sto un aggiornamento Link in descrizione E allora mi sposto un pochetto Per lasciare la visuale All'iPad Che apparirà qua E avviamo questo Unintentional ASMR Di Bob Rose Vi lascio ovviamente il suo canale Nella descrizione Ok Partiamo subito Avviamo la registrazione Dello schermo Il titolo tra l'altro È Pop Rose ASMR Non è proprio È stato caricato da un altro canale Questo però vabbè Avviamolo Vediamo un po' quello che viene fuori Com'è la sua voce Soprattutto I'm certainly glad you could join us today I thought today we'd do something that's really cold So you better get out your big coat and put it on With a knife Take some pure titanium coat Let's take Prussian blue Midnight black Put some alizarin crimson in it Maybe even a little van dyke Good dark color Predominantly blue though Pull it out as flat as you can get it Cut across Get a little roll of Pull it out as flat as we can get it Cut across There we go We'll take some white A little Prussian blue Mix it together And with that we'll make a nice little shadow color Just blue and white There Good cold color Cut off a little roll of painting Let's do two ranges of mountains Just to show you how you can put one mountain in front of another Alright The liquid white Cut across it We'll go right up in here Just put in a little, little tiny, little tiny water light It lives right there This is just a light area between the two darks It sort of separates It also looks like little places where snow's laying out in the water There There we go Nice Maybe there's a big old thing out in here Whatever It's up to you It's up to you Alright, let's have some fun Time to get crazy Let's mix up Wow Devo essere sincero Il primo pezzo è fantastico ragazzi Ma la cosa che mi fa più impazzire è proprio questo suono del colore Che si E che si va a mischierano con questo pennello Che in realtà è una sorta di, non lo so, una lama affilata E quando passa poi sulla tela Questa lama con il colore Fantastico il suono Ma È allucinante Io ancora devo capire com'è possibile che si creino questi ASMR unintentional Perché davvero Serve comunque un buon microfono È vero che lui ha qui il lava lì appunto E quindi riesce a prendere questi suoni Dovrebbe aprire un canale ASMR Anche la voce, questo soft spoken In questa maniera Un po' più tranquillo Un po' più accentuato rispetto a quello che faccio io Però è bellissimo, è bellissimo Poi il vedere anche poi come si forma Anche un po' visual trick Perché il vedere È la Il formarsi delle linee che fa dipingere C'è qualsiasi suono qua dentro Sia quando mischia sulla Addirittura anche sulla tavolozza Che dovrei farci un video ragazzi Che dite un video pittura Potrei portarlo E potrebbe essere abbastanza interessante Fatemi sapere se Vi piacerebbe che portasse un video sulla pittura Diciamo Spennellate Roba semplice Il suono è bellissimo Luca spiega E questo mischia del colore Poi lo mette anche dentro l'acqua Mischia del colore È una roba fantastica Non so, questo è soltanto l'inizio Quindi continuiamo un attimo ad indagarlo Però complimenti Pop Rosso Perché davvero è fighissimo questo video Mi piacciono troppo E gli occhi è in intentional ASMR Mi rilassano ancora di più Dei peri e proprio ASMR Mamma mia Continuiamo Andiamo a vedere Che altro ha da riservarci Signora Pop Rosso Black Crimson Phew Lotta color They're dark It should look black But it has a blue base to it I'll even put a little brown And keep it dull There Let me wipe off the old knife Tell you what Let's take a little Got a little blue and white here Since this is such a cold looking painting I'm gonna Just use that color To make the indication Of a few little trunks Here and there There Normally we'd use brown But I want this painting to stay cold Real cold There Come right back in here Put the indication of a little bit of snow under here Just a little snow Gotta have something for all this to sit on It's just sort of hanging out here in the lake right now Or stronting back here I'll go right into some Van Dyke brown Van Dyke brown And let's Ok Ok Adesso Ha Ha cambiato dipinto Avete visto? Però anche qui Quando ha fatto anche Ha ingoiato la saliva Ha fatto C'è un suono bellissimo Mentre continuava A passare Questa lama Bellissima Bellissima Anche comunque Il formarsi delle strisce O comunque Qual il suono sulla tela È una roba pazzesca Questa praticamente È una sorta di montaggio Di molti suoi video Ok Che raccolgono tutte quelle parti Che sono un po' ASMR Quindi quelle un po' Più rilassanti Ed è bellissimo Secondo me Complimenti a chi l'ha fatto Vi lascio anche il canale Di chi ha fatto questo montaggio Sempre nella descrizione Quando volete andarlo A recuperare A ripetere In te Insomma questo video Che dura circa 18 minuti 17 minuti e 53 Però è una maestria unica C'è Questa è pura maestria È pura maestria È andato un po' avanti Vediamo un po' Che altro Andrà a dipingere Fantastico Amount of brown to it Just to dull it down So we have titanium white And the least little amount Of brown Cut across it Need that small Small roll of paint again There we go Very important Ok To grow up here So let's go right up here And let's just touch it It's just straight sap green Here and there Oh there it is Little old bush and tree It's trying to make it up here But life's tough Up here on top of this mountain So there we go Put a few of those Right here Right here No 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 Non è vero Riguardo il signor Bob Ross Se non fare gli complimenti Anche questo tono di voce Ok Che non è Non è propriamente Non so Spoken potente Perché comunque È bella Abbastanza alto Io penso che questo sia proprio Il suo tono di voce normale Quindi Ci può starlo Ovviamente Come suono Però È veramente 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 Rilassante Cioè A me piacerebbe molto Davvero una voce rilassante Anche durante la giornata Io ritengo la mia Per l'SMR Fantastica Sono un po' Orgogliosa Del mio volume Di voci ASMR Però qui comunque C'è un insieme Tra voci E suoni Che è sublime Sembra proprio fatto Appositamente per l'SMR Cioè queste sono le prime Veri fumi di SMR In questo video Non so A quale anno risalga Io penso agli inizi del 2000 Comunque sia Quando ancora appunto L'SMR non era Non era arrivato Ma è proprio da loro Che poi Da queste persone Che piano piano Poi è partito Alla fine dei conti Quindi È bellissimo Poiché qualcuno Ne abbia creato Proprio un format L'abbia chiamato ASMR Però c'era già Chi lo faceva Bellissimo Vabbè Devo continuare a guardarlo Perché magari Stiamo perdendo Di suoni Super interessanti Andiamo a scoprirli insieme Alla fine Is a general General lay of the land Just pull it in the angle You want your land to go Okay We'll take some brown and white And we'll come back in here And just like when we did the mountain Lightest, lightest pressure Virtually no pressure And all we're doing here Just barely Barely letting it graze So it hits the high spots Just the high spots Barely, barely touching Sometimes it's very pretty Add a little yellow ochre To your color And watch Yellow ochre and white It's very pretty Makes nice stones Okay Go right into We'll go into some sap green With this old dirty brush And it already has yellow on it And everything else I want this side to be quite dark Much, much darker Not as much light's gonna strike Over here There Oh, it's almost straight sap green Little bit of yellow on the brush But mainly, mainly sap green Good dark, rich color And we need Just like on the other side Let's put a little bit of land in here And I'm just barely touching with a knife It's Van Dyke brown Questa parte è bellissima Perché ha preso il pennello E' proprio C'è il pennello Quello con la Ecco le Le setole Insomma Bellissimo Questo punzecchiare E' sulla terra E' a dire Un po' Costrebedoso Quindi mi sta piacendo tantissimo Questo video Sapete quanto vuoi Davvero questo è un format Che però Questo è il terzo video del format Però davvero potrei farlo all'infinito Una volta al mese Più che altro Perché ce ne sono così tanti Dianitation ASMR Cioè YouTube è pieno Dianitation ASMR Quindi All'infinito questo format Potrei portarlo sempre Se a voi ovviamente piace Però vi faccio scoprire Anche altre tipologie di ASMR Che magari Non andreste a scoprire Senza il mio Aiuto Ora passato Ad un altro dipinto Aiuto Passato un dipinto All'altro Vediamo che altri suoni Può Diciamo Tirarci fuori Da Da questo suo dipinger Che è così innocente Perché non sa Che sta facendo Oltre alla pittura Anche l'SMR An old silo thing out here Right about here We'll just make a basic line Where we want this to go Maybe it's about this wide And all we're looking for here Is just basic shape Just really push in some color Add a little dark sienna to that Van Dyke brown, dark sienna Now then I want to take the small knife And just begin rubbing this Rubbing it It'll become very soft And very smooth Looks almost like it was done With a brush There We wipe off the excess paint But rub it There we go Okay Now then Maybe Let's put some Maybe there's some snow Up on this little thing Let's go back up here Let's go right up in here Maybe Let's touch right here Pull down Zoom Just sort of decide where that's gonna be And just drop it in A little bit right over in here Pull it Tell you what Maybe this one's got a little doer It comes out here Wherever you want it All kinds of little things Go back with our brown And let's just fill this in There we go Just straight brown Just straight brown And all we're doing right now Is just blocking in some basic color You could do this with a Shoot, you could do this with a paint roller Any old way Well Firm up that edge a little There we go Just pull it down Straighten it out a little And we'll take a Allora Oltre al fatto che Bravissimo a dipingere Ha una dote Questo è poco ma sicuro È interessante vedere anche poi Come organizza i colori Con questa lama Come riesce a dare idea Di ciò che vuol fare Sulla 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 tela È bellissimo Vederlo Il crearsi Appunto Delle immagini Anche un visual trigger Come avevo detto all'inizio E qui poi bellissimo Come rimarca Ok Questo coltello Rimarca sulla tela Che fa un suono stupendo Soprattutto per quanto fa A rendere omogeneo Poi il colore È qualcosa di pazzesco È bellissimo Sono Intensata davvero Di aver scoperto Questo Questo canare Di Pop Ross Che ci sta Tenendo Ci sta mostrando Davvero molte Molte tecniche Anche della pittura Che possono interessare Come possono non interessare Però davvero Ha il super che Ha il super che Continuiamo Siamo in dirittura Di arrivo Peccato Però Pop Ross Sta passando A pieni voti Questa rubrica And it turns Right over Over work Just wherever you want it And the other side Over here Maybe this one Comes down Like so Right down To about there Ok Let's put a little Maybe there's a little Dewar right out here We'll just sketch that In with our knife Now we want to block All this in With color And I'm just using Just basically Van Dyke brown A little dark sienna Here and there In it And all we're doing Is just blocking In color Blocking in color Ok Tell you what Maybe here and there Add a little touch Of phthalo blue Right there That's pretty Doesn't look so hot Right now But when we go back And begin Blending all this together You'll be surprised Those little things Will make it look like Shadows in there And stuff Experiment with Different colors Maybe over here We'll have something Come out Like that We'll have a roof See there Just sort of lay it out Lock in the color Boy I know At home he's saying Bob you've really Made a mess this time You've made me Right as rain too There we go Ok Now once you get This basic color Blocked in here Now all I'm gonna do Is take the small Anche questo pezzo Dove riempire la montagna È a dir poco strepitoso Davvero Bello 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 E appunto Il formarsi del colore Il formarsi dell'immagine Rende appagante Questo video Anche dal punto di vista Visuale Non c'è nulla da fare Non c'è nulla Da fare Vediamo l'ultimo pezzo E poi direi che possiamo Tirare le somme Per quanto riguarda Questo nuovo Intentional smr Che abbiamo visto Assieme Rub very firmly Wipe the knife Continually wiping the knife Removing that excess paint There we go And at home You have all kind of time You can make this look So unreal It's beautiful What you can do Just taking this knife And rubbing it Making tiny little circles People will think You've worked for Long periods of time With a very Very delicate little brush There And the more you rub it The smoother it becomes Just make some beautiful effects Beautiful effects There About all the boards In this barn And just sort of let the knife Touch Bounce Just let it play on there Very, very little paint is coming off the knife We just want the indication of a lot of little boards There we are And just wherever you want them Wherever you want them I like to do paintings like this We travel all over the country And do shows for PBS stations and et cetera All over Help them with their fundraising activities But we do a lot of paintings like this And they're very, very popular And when we travel and do these shows We meet some of the most fantastic people in the country So if we get to your area Come out and see us I'd love to spend some time with you And talk to you See some photographs of what you're painting It's a good time for us to get together And just Just chew the fat for a while There And I tell you what If you want to know when we're going to be in your area Drop me a line Just give me a name and address And we have a little mailing list So let's put a Maybe there was a porch over this old barn Or some type of roof up here To keep the rain off So we'll just put that on right like that Just straight, straight Van Dyke brown Okay And maybe we need an old rail to hold it up here An old post Well that was sort of crooked Maybe that old barn's about to fall over We'll give him another one right there Mamma mia Mamma mia Ci siamo rispostati al centro Finale pazzesco Con queste righe che Danno l'effetto di legno vissuto A questa casa che io pensavo prima fosse una montagna Devo essere sincero Faccio il mea culpa Mi dispiace Papa Rosso Pensavo fosse una montagna Invece una bellissima casa Perché poi appaiono anche le finestre E queste righe fatte con il nero Stupendo Cioè oggi abbiamo fatto sia Lezioni di unintentional ASMR Quindi scoperte l'indecine ASMR Valutazione di un ASMR involontario Ma che abbiamo fatto Una bellissima lezione di pintura Quindi abbiamo imparato a realizzare Una casa Una montagna Un bosco Chi più è una piena metta Questo l'indecine ASMR di Papa Rosso Per me si merita Un 8 su 10 Se avesse parlato di meno Sarebbe stato molto più rilassante Perché i suoni di questo coltello Sulla tela sono stupendi E il formarsi tra l'altro Degli oggetti Con il passare del video Cioè il prendere forma appunto Dell'immagine È stupendo Il mischiare i colori Altrettanto stupendo Abbiamo sentito tantissimi suoni In un unico video Che la raccolta Ed in momenti più ASMR Di questo Bob Rosso Il pittore di YouTube Che fa ASMR Senza saperlo Ditemi la vostra Su Bob Rosso Se ti è rilassato Più di quelli che abbiamo visto In precedenza O meno E detto questo Io non posso far altro Che augurare Quella Tranquilla Cioè io E sorrilla Cioè io Ticlo, ticlo, ticlo...